No, no, ragazzi, non dovete seguire la propria linea di sto cazzo, perdonatemi la franchezza. Quando voi vi scrivete in palestra, decidete voi se fare uno o da uno a dieci push-ups in un mese oppure avete petto quattro volte al mese? Cioè, ragazzi, per ottenere risultati in questa seduzione, fondamentalmente, così come non potete ottenere risultati con dieci push-ups al mese in palestra, qui vale lo stesso, dovete colpire la palla, per così dire, a una certa quantità e a una certa velocità. Ora, non vi dico di farvi aspettative realistiche, nel senso che per qualcuno semplicemente il fatto di approcciare può essere un risultato, il fatto di mandare avanti una conversazione può essere un risultato, il fatto di ottenere reazioni positive dalla ragazza può essere un risultato, quindi in realtà, se proprio volete porvi un obiettivo, l'obiettivo dovrebbe essere come faccio a passare al mio livello superiore di skills, piuttosto che al risultato, perché il risultato, il risultato, parlo di sesso, è una conseguenza, ok? Però c'è sicuramente uno sforzo che va fatto e allo stesso tempo uno sforzo che sia realistico, nel senso che se fino a ieri la vostra migliore conquista è stata Ursula della Sirenetta e poi dite voglio la modella, ok, calmiamoci un attimo, facciamo un passo indietro e non sto dicendo che qualcuno sia fatto Ursula della Sirenetta qua, sto semplicemente dicendo che anche quella sarà una scainata. Quindi i risultati devono per forza essere progressivi, ragazzi, e l'inizio, detto molto francamente, è un inizio che è drastico. Se qualcuno di voi si è mai iscritto in palestra, voi sapete che è un cambio radicale di stile di vita, cambiate l'alimentazione, cambiate il modo di allenarvi, eccetera, eccetera, eccetera. Se qualcuno di voi si è messo a fare l'imprenditore nella vita, sapete che l'inizio è merda spatolata dal, come cazzo si chiama il fan in italiano? Dal ventilatore. È merda nel ventilatore che va arrivando nella faccia. Mi sto sbagliando relativamente a questo? Quindi quest'area non fa differenza. Ci sia, ha senso quello che sto dicendo? Sì, sì. Ok. Quindi nei prossimi 90 giorni usiamo il volume per migliorare quelle che sono le vostre skills. Se questo video ti è piaciuto ti ricordo tre cose al volo. Uno, iscriviti al mio canale Telegrangio di Lorenzo, dove ti do informazioni che qui su YouTube non posso darti. Il link per iscriverti è gratuito e lo trovi in descrizione. Due, in descrizione trovi anche i links a tutti o quasi i miei corsi, dove ti spiego passo passo come imparare la seduzione con sistemi step by step. E tre, purtroppo, ai links in descrizione non trovi tutti i corsi. Alcuni te li proponiamo solo se ti iscrivi alla newsletter. E rimani qui solo un secondo perché ti sto per spiegare come fare. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.